allora caraibbi amici allora adesso lanciamo ratch and clank su ps4 pro che uno dei giochi che supporta la console come possiamo vedere andando a controllare nella cronologia degli aggiornamenti la versione 1.06 aggiunge il supporto hdr anche per playstation 4 standard e poi il supporto 4k per ps4 pro dunque questo è il primo gioco in hdr che lanciamo in queste nostre prove su ps4 pro quindi andiamo a controllare che nelle impostazioni dell'uscita video a parte la risoluzione 2160p che è il 4k sia impostato su automatico l'hdr ricordatevi di fare questa cosa inoltre ricordatevi se avete un televisore 4k hdr di andare anche nelle impostazioni del televisore questo è un samsung del 2016 quindi se avete anche questo stesso televisore dovete semplicemente controllare e ci sarà chiaramente una voce analoga anche su altri televisori hd hdr che l'hdmi hd color sia su attivo on acceso nelle porte hdmi nella porta hdmi a cui avete collegato ps4 pro io l'ho attivato su tutte quindi questo problema non non si pone ricordatevi di questo altrimenti non potete visualizzare le i contenuti in hdr detto questo lanciamo il gioco adesso dovrebbe arrivare un avviso del televisore che è partito un contenuto in hdr cambiano anche le impostazioni grafiche del televisore stesso quando parte un contenuto hdr ecco qua vedete in alto è questa siccome la prima volta che lo facciamo su ps4 pro ci arriva anche un messaggio della console quindi interessante questa cosa la leggiamo insieme verrà attivata la risoluzione hdr a high dynamic range per visualizzare i video ottimizzati per hdr si applicano le seguenti limitazioni i colori di clip video trasmissione altri video potrebbero apparire diversi dal previsto è quello che ci auguriamo le funzioni di registrazione e trasmissione del gioco potrebbero non essere disponibili questo è interessante tra l'altro mi è venuto in mente che dopo dobbiamo anche vedere questa cosa allora do un attimo un'occhiata alle impostazioni del televisore che cambiano di conseguenza sono quelle di default lasciate dunque qui livello di nero hdmi e l'auto l'impostazione analoga sulla console visto che ci siamo facciamo vedere anche questo fatto sempre per l' hdr va è consigliato utilizzare l'intervallo rgb completo che sul televisore deve corrispondere a su questo televisore poi su altri comunque ci saranno voci analoghe deve corrispondere a livello di nero hdmi adesso qui non non si può impostare e ne parliamo tra un attimo se si può impostare va impostato su normale in genere la distinzione tra basso e normale quindi su ps4 completo sul televisore normale qui è in auto ed è bene perché c'è in auto e non te lo fa neanche cambiare ed è bene significa che il televisore acquisisce le informazioni complete da ps4 pro non ha bisogno di una regolazione ulteriore una cosa che succede anche su xbox one s quindi probabilmente dipende anche molto dalla connessione hdmi 2.0 superiore che hanno appunto xbox one s e ps4 pro e che non ha ps4 standard infatti questo stesso gioco su ps4 standard dovevo impostarlo a mano sia sulla console sia sul televisore allora adesso qui magari potremmo anche fare dei settaggi ulteriori vediamo intanto nelle opzioni del gioco stesso se c'è qualcosa di interessante al riguardo mentre uncharted 4 ha finito di scaricare la sua patch gioco comandi e audio per il video ti devi star fuettere nel coil non c'è niente di opzioni video benissimo va bene ok quindi insomma io voglio però vorrei purtroppo non possiamo chiacchierare a voce con sole che è alla regia perché questo gioco ci è piaciuto tantissimo in questi giorni già nella versione ps4 standard che perché molto colorato e molto figo tra l'altro mi piaceva anche in hdr sulla ps4 standard ma qui mi piace devo dire molto di più ecco questa è una differenza di quello che è successo nel con rise of the tomb raider in cui c'è stato un po di ma vediamo facciamo così questo qui è subito figo fin dall'inizio secondo me soprattutto per l'hdr più che per l'innalzamento di risoluzione che bisognerebbe anche vedere a quanto dopo facciamo una prova mettendo l'uscita della consola 1080p per vedere che tipo di cambiamento c'è che ne dice il il nostro sole è che non riesce a trovare delle delle scarette attenzione lui ho anche un pizzico più lontano dal televisore rispetto a me perché sta controllando anche la telecamera che riprende io però devo dire che sono mi sto avvicinando con la faccia anche quasi proprio dentro al televisore e in effetti ripeto è questo gioco era già molto figo su su ps4 standard e sì cioè è un bel vedere è un bel vedere al momento passa in testa facciamo subito questa classifica al volo o pensa come si faceva il ok morire nel quad nel nell'hdr è una cosa che no volevo ho fatto di nuovo la stessa cazzata di prima non mi ricordo come si attiva il jetpack che tra l'altro nella parte di gioco a cui sono arrivato io avevo sbloccato il jetpack era un si usava al volo no era uno oggetto non è questo questo è il normale utilizzo del coso per c'era proprio il jetpack figo vabbè facciamoci un giro con quello che abbiamo a disposizione poi magari lo scopriamo comunque questo è fantastico ragazzi questo qui è veramente bello è già bello su ps4 standard datemi il mio combustore magari proviamo anche pianeti diversi però wow questo va visto assolutamente se avete preso ps4 pro avete un televisore 4k hdr ricordatevi che questo gioco in offerta in questi giorni quindi se non ce l'avete fateci un pensierino in generale è uno dei giochi per ps4 più sfiziosi del 2016 e poi su su ps4 pro su un televisore hdr più che più che 4k anche se comunque anche il miglioramento a livello di definizione abbastanza figo ma è cioè l'invasione di andiamo subito all'astronave andiamo in un altro pianeta voglio vedere subito come la palette di colori anche negli altri pianeti che ce ne sono di diversi dunque l'astronavella ok non so questa cosa del jetpack perché non andiamo in un altro pianeta tipo questo forse era quello brutto tutto desertico e infuocato andiamo a vederlo comunque ogni frame che sta passando sul televisore in questo momento è secondo me fighissimo ecco mi aspettavo qualcosa di importante da da questo raccetta in clank e in effetti questo qualcosa è arrivato tra l'altro il gioco gira a 30 fps ma non scatta cioè è abbastanza bello fisso fermo il il frame rate qui ambientazione proprio completamente diversa rispetto al pianeta di prima eh allora già se già con con i già allora con i giochi belli secondo me e adattati boh non so quanto bene cioè stavo pensando scusate perché nel frattempo gioco e guardo e quindi esprimo i pensieri con la stessa articolazione di chi è legato e cerca di muoversi stavo dicendo con i giochi che arriveranno in futuro secondo me potremmo vedere davvero delle cose a eccolo qua forse il jetpack funziona solo su determinati pianeti potremmo vedere davvero delle cose molto fighe perché questo qui è un gioco che non credo sia stato concepito direttamente con in mente l' hdr e la possibilità di usarlo a risoluzioni più alte e poi però con un semplice non so quanto semplice in realtà ma così un semplicemente con un adattamento alle caratteristiche della del nuovo modello di ps4 ps4 pro già viene fuori una roba veramente veramente molto figa quindi immagino i vari horizon zero dawn days gone che gran turismo sport per esempio che sono stati anche mostrati in in questi giorni che tipo di impatto potranno potranno dare va bene insomma comunque dicevo facendo la classifica veloce per il momento dei giochi che stiamo provando così a volo poi vi ricordo che ci saranno articoli specifici per ognuno di questi giochi che stiamo provando adesso con differenze tra ps4 pro ps4 standard eccetera in modo da darvi una sensazione sul maggior numero possibile di giochi con supporto alla nuova console sia per darvi complessivamente un'idea del di quello che che può offrire ps4 pro sia anche perché anche questo è molto importante per chi ha già intenzione di comprarla o l'ha già comprata capire quali sono i giochi che la sfruttano meglio in modo da dedicarsi a quelli no che comunque mi sembra una roba che può essere interessante e quindi facendo dicevo ci saranno articoli molto belli approfonditi su igne italia gioco per gioco ma per adesso facendo una classifica veloce al momento in cui stiamo registrando questo video abbiamo provato rise of the tomb raider e ratchet and clank al momento ratchet and clank ha avuto un impatto migliore va bene passiamo quindi a qualcos'altro allora a questo punto noi ci vediamo in un altro video caraibi